Ciao a tutti ragazzi, bentornati nella taverna dopo le vacanze, so che è da un po' che non faccio video, ma sono stato un po' in crisi mistica, ho avuto un po' sospendere, poi ho avuto altri problemi con youtube, perché avevo pubblicato un video e allora non andava bene, vaffanculo, e detto ciò, niente, continuiamo comunque. Spero che voi stiate bene, abbiamo passato le vacanze. Ah, eccoti, vieni, vieni a vedere. La base di controllo principale di Diravello è protetta da piccole testate missilistiche al Bavarium arricchito, un uso improprio del Bavarium raffinato. Fammi indovinare. Esattamente come prima, quelle condutture contengono cavi e fibre ottiche. Non ha ancora imparato dopo le ultime due volte. Sarà come rubare le caramelle a un bambino. Bene, sueghiamo i cavi come l'ultima volta, disattiviamo le difese, e dopo spacchiamo tutto. Sarà un video breve, ragazzi, perché adesso non so se riesco a pubblicare ancora video lunghi, quanto mi pare. Vediamo. Bene, altri tubi. Sai come funziona? Segui i tubi. Ma... Sto vendendo il piccolo brand di scatto, non so. Quale motivo? Io... Ragazzi, buon anno ora che ci penso. Buon anno a tutti. Credo siano le ultime tasche, Dima. Basta superarmi? Pensiero confortante. Ma la lotta contro Diravello e il Bavarium continua. Sono pronto. Bene. No. Adesso non so se... Caricherò, diciamo, un video... Che cazzo ho fatto? Video come facevo prima, perché... Come ho detto, bisogna vedere se ancora ho il limite... O meno. Caricherò anche video di Armored Warfare, non preoccupate. Adesso... Ho... 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 Ho detto un po' come ho detto impegnato, ho giocato un po' d'Armored Warfare negli ultimi tempi. Ho imparato anche un po' meglio a giocare. E... Niente... Adesso ho bloccato l'Eopard 2 a 6. 90 messe che devo comprare. E poi appena riuscirò anche lì a sbloccare il Biododraco. Ecco, dei piccoli scatelli. Vabbè. Ci penso io. Apro il cancello. Grazie. Sapevo che sarebbe stato chiuso. Cancello aperto. Molte grazie. Ragazzi, tranquilli. Non è... Non è il video, sono... Oggi che il computer ha deciso che deve fare i cazzi suoi. Stai elaborando dati per i cavoli suoi. Qua, perché? Salve, non fate caso a me. Sta arrivando la milizia. Porca puttana. Scienziati di merda. Ma non ho fallito. Cioè, sono loro che mi si sono messi in mezzo. Dovrebbero farmi ripartire da lì comunque. Spero. Iniziamo proprio bene, eh? Aspetto. Un video. Tra lag. Cancello aperto. Cancello. Salve. Salve. Ecco qui, arriva la milizia. Ecco qui. Ecco qui. Ecco qui. Una stanza piena di camici bianchi. Sì, ricercatori. Studiano il Bavarium e abusano del loro sapere per cost... È il momento di fare sul serio. Un altro passo verso l'eliminazione di ogni traccia di Bavarium. Sì. Le esplosioni hanno sempre il loro perché. Le tasche sono disattivate. Potremmo avvicinarci a Falco Maximo e distruggere ogni traccia di Bavarium. Ci sei quasi, Dima. Sì, ci sono. Ah, come previsto. Ecco una via di fuga rapida. Molto bene. Aspettate che è meglio prendere... Un'altra di spiro. Ecco. Non l'ho preso. Ma ok. Molto bene, ragazzi. Molto bene. Vediamo cosa ci dice la Sultima. Ci dirà qualcosa? nulla? Nulla? Strano. oh si adesso troviamoci sti cazzi mazzi cosa mi sembra è quando io mi prendo un paio di missioni prendevo l'aereo e inizia a bombardare un po' è diventissimo Va bene ragazzi Ditto ciò Dato che non risponde Dima Direi che ci vediamo direttamente alla prossima puntata Con la distruzione della base Di una base super mega enorme Ciao a tutti alla prossima Buon anno Buon finito e feste a tutti Buon incominciato Ciao a tutti